Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta variegata con crema pasticcera. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono per la torta farina di tipo doppio zero, zucchero, olio di semi di girasole, latte, uova, lievito per dolci e vanillina. Per la crema pasticcera panna fresca per dolci, latte, zucchero, farina, uovo e tuorlo e aroma di vaniglia e per lucidare zucchero e acqua. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la crema pasticcera. Mettiamo nel boccale la panna, il latte, la farina, l'uovo e il tuorlo, lo zucchero e l'aroma di vaniglia. Ed azionare il bimbi per 8 minuti, 90 gradi, velocità 4. trasferire in una ciotola, coprire con pellicola a contatto e lasciare raffreddare, lavare ed asciugare bene il boccale. Posizionare la farfalla sulle lame, mettere lo zucchero e le uova e le uova e farle montare per 8 minuti a velocità 4 senza misurino. azionare il bimbi a velocità 4 e aggiungere piano piano prima l'olio e poi il latte. e aggiungere la farina. la farina, la vanillina e il lievito ed azionare il bimbi per 2 minuti a velocità 4. versare il composto in una tortiera da 24 cm ben imburrata. mettere la crema e con un bastoncino variegare. cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-50 minuti circa. la torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. nel frattempo preparare il composto che ci servirà per creare l'effetto lucido sulla torta. mettere nel boccale lo zucchero e l'acqua. ed azionare il bimbi per 10 minuti 90 gradi velocità 3 lasciare intiepidire e spennellare sulla torta. torta variegata con crema pasticcera. grazie e alla prossima ricetta! grazie a tutti! grazie a tutti!